Iniziò a dedicarsi al teatro a partire dagli anni 30, imponendosi come uno degli attori dialettali più validi e vivaci, soprattutto come spalla di Nino Taranto. La sua stagione migliore nel cinema, in cui aveva debutato verso la fine degli anni 30, iniziò alla fine degli anni 40, quando cominciò ad impegnarsi in parti di situazioni comiche e farsesche, quasi sempre al fianco di Totò, affermandosi come caratterista disinvolto e brillante. Recita infatti nel film Miserie e nobiltà, 1954, come sceneggiatore e realizzò, anche se non con la cura necessaria, scapricciatiello di Luigi Capuano, 1955, e ci sposeremo a capi di Siro Marcellini, 1956, dalla fine degli anni 50 fino ai primi anni 70. Turco ha lavorato anche in televisione, partecipando a sceneggiati e da serie televisive di successo, fra le altre cose, Joe Petrosino, fiction diretta da Daniele Danza nel 1972.